buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui con il post partita di atalanta lecce partita finita per 1 a 0 prima che inizi a parlare invito come sempre ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella qualora non l'avessi già fatto ragazzi che dire una partita bella una partita veramente giocata bene e soprattutto una delle migliori partite del campionato giocate fino ad ora da lecce in maniera molto completa in maniera molto attenta è mancato solo il gol lo possiamo dire lo possiamo dire sì l'atalanta ha avuto quella scintilla in più quella giocata in più con la qualità in più per portarla alla fine a casa di corto muso se così possiamo dire con una super giocata di adama lukman che veramente ha fatto una grande partita ha fatto una grande giocata che poi ha regalato di fatto la vittoria all'atalanta che dire di questo lecce fa ben sperare diciamo che ci fa chiudere l'anno comunque bene ci fa chiudere l'anno al dodicesimo posto in classifica avremmo potuto chiudere molto meglio nel senso che forse scalare due comunque altre posizioni ci avrebbe resi sicuri per questo girone d'andata che si concluderà ovviamente alla befana al giorno della befana con un lecce cagliari in casa in cui veramente ci sarà da dire tanto ci sarà da fare tanto non solo in questo momento il cagliari quanto su che parziale comunque sta giocando un altro scontro diretto importante contro l'empoli ecco ragazzi possiamo dire che il cagliari è una squadra in ripresa una squadra comunque in forma e che soprattutto con cui ce la giocheremo detto questo ritorniamo su atalanta lecce devo dire il lecce ragazzi oggi ci vado veramente molto bene nonostante le difficoltà in attacco con banda che era squalificato con alquist e sansone che sono fuori per infortunio in difesa con un po un greci che nella scorsa partita era diffidato ha preso il cartellino giallo e quindi ha saltato questa partita per espulsione e tuba ha giocato bene cabà ragazzi oggi a centrocampo ha buttato fuoco insieme anche a ramadani strefezza mi è piaciuto tanto io diciamo che non sono d'accordo con chi sta criticando strefezza e che ecco credo che tutti coloro che stanno criticando strefezza stanno parlando di ciclo chiuso stanno parlando che strefezza se ne deve andare perché se no non facciamo più cassa stanno parlando di uno strefezza che non c'è più con la testa di uno strefezza un po perso io non sono d'accordo con tutti quelli e quelli sono i semplici tifosi sfegatati sfigati come li chiamava corvino sfigati sfegatati da tastiera leoni da tastiera perché ragazzi chi non ha visto strefezza giocare in serie b e trascinare il lecce fino alla serie a parliamo ovviamente la serie b che è tutto un altro campionato però chi non ha visto giocare quello strefezza e chi non ha visto giocare lo strefezza dell'anno scorso che ci ha fatto salvare con i suoi gol l'anno scorso ha fatto dieci gol ragazzi è stato forse il capo canoniere della squadra non può parlare c'è io sto scrivendo un podcast lo ripeto l'ho ripetuto in live lo ripeto oggi nel video ve lo ripeto ancora una volta io sto scrivendo un podcast su federico baschirotto e su proprio sulla conferma sto scrivendo il podcast su federico baschirotto e sulla sua conferma in serie a non è mai facile anzi è difficilissimo confermarsi in un campionato come la serie a come una bestia come la serie a e oggi non sono d'accordo con chi critica strefezza con chi dice che se ne dovrebbe andare perché se no lecce non fa più cassa con chi dice che strefezza se ne deve andare senza rinnovare non sono d'accordo non sono d'accordo ragazzi strefezza se ne andrà sì ma per scelta sua magari ma perché a lecce forse è un ciclo chiuso per lui ma questo lo deciderà lui insieme al suo procuratore insieme alla società si siederanno in un tavolo si parleranno chiari e schietti in faccia e si diranno come stanno le cose ma i tifosi ovviamente è chiaro che dicano queste cose però non sono d'accordo con chi lo sta criticando sinceramente chiuso questa parentesi vi voglio dire anche un'altra cosa su cristovic e piccoli altro ballottaggio ragazzi altre critiche e altri sfigati da tastiera cristovic ragazzi ha avuto un impatto con la serie a incredibile nelle prime giornate ha segnato sempre ha segnato forse o quattro cinque gol ragazzi a manetta poi si è fermato a un certo punto si è fermato a un certo punto poi è emerso piccoli in questo momento piccoli maggiore di cristovic oggi ennesima conferma piccoli appena subentrato proprio a cristovic si è divorato il gol davanti alla porta a centimetri dal gol del pareggio ha disputato una buona prestazione ha fatto delle ottime giocate cristovic ragazzi oggi si è mangiati due tre gol un rigore movimento ragazzi non è semplice non è semplice vi devo dire che non è semplice altro discorso anche per gli stoschi vabbè gli stoschi possiamo lasciare perdere c'era chi diceva oggi gli stoschi parte al primo minuto alla fine io penso che gli stoschi abbia giocato proprio per coloro che ormai l'avevano schierato i tanti allenatori che avevano schierato tanti allenatori del lecce che l'avevano schierato quindi alla fine daversa detto ma dai diamogli questa chance detto questo ragazzi oggi lecce fa una buona prestazione poi il gol manchi è un altro dato di fatto non la porta l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata più volte prima con udana su quale è stato bravo con un intervento omicidiale tarnesecchi poi con piccoli poi con cristovic con strefezza che ha svirgolato e poi la ragazzi l'ala decide l'episodio l'ala decide una super giocata di adama lukman che con il suo tocco di classe con la sua esperienza la buttata dentro ha fatto vincere l'atalanta detto questo ragazzi ora appunto speriamo in una buona ripresa contro il calderi poi ci aspetta un tour de force con la juventus poi ci sarà il calendario davanti ci sarà la lazio ci sarà la juventus il genoa il frosinone il bologna il torino l'inter e il frosinone della sferona e la salenda queste sono le prime dieci giornate del campionato diciamo del giorno di ritorno detto questo ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video ripeto ragazzi non criticiamo giocatori che hanno fatto bene a lecce che magari in questo momento non stanno rendendo arriverà anche il loro momento arriverà il loro momento in cui si sbloccheranno arriverà sicuramente un momento in cui lecce tornerà a vincere detto questo ragazzi vi ringrazio mi aspetto il live fra qualche minuto perché siamo in maratona ci sono ospiti ci sono domande potete entrare anche voi in live in chat potete entrare anche con noi per un vostro pensiero personale detto questo vi ringrazio e ci vediamo alla prossima sempre forza lecce buon anno a tutti ragazzi e buone feste